Extra time, dunque ballottaggi a Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Severo. L'unico comune superiore ai 15.000 abitanti che legge al primo turno il sindaco è quello di Torre Maggiore dove a spuntarla nettamente Emilio Di Pumpo. Per Di Pumpo, candidato della coalizione di centrosinistra, si tratta di una riconferma in una competizione in cui il verdetto finale dice che non c'è stata partita. L'incertezza più grande è invece a San Severo dove il vantaggio del centrosinistra non è sufficiente ad evitare i tempi supplementari. Ballottaggio quasi certo tra Angelo Masucci, vicino al 45% delle preferenze, mentre c'è incertezza su chi sarà eventualmente lo sfidante. Con pochissimo scarto tra gli altri tre candidati, Lidia Colangelo di Fratelli d'Italia ed altre civiche, Anna Paola Giuliani, Udc più civiche, e Rosa Caposiena, sostenuta da Forza Italia e due liste civiche. Ballottaggio che appare sicuro anche a San Giovanni Rotondo dove continua il testa a testa tra il sindaco uscente Michele Crisetti del centrosinistra e Filippo Barbano, sostenuto tra gli altri dal Movimento 5 Stelle. Fuori dai giochi la candidata della coalizione di centrodestra, Floriana Natale. E secondo turno probabilissimo anche a Manfredonia dove il candidato del centrosinistra, Domenico Lamarca, è in vantaggio su quello del centrodestra, Ugo Galli, ma sotto la soglia del 50%. L'elezione dunque sarà decisa tra due settimane. Gli altri verdetti, sorpresa a Troia dove si avvia verso l'elezione a sindaco Francesco Caserta. Oltre una decina di punti di vantaggio sul sindaco uscente Leonardo Cavalieri. Anna Lisa Lisci è invece la nuova sindaca delle isole Tremiti. La candidata civica di Progetti Tremiti Bene Comune ha battuto Roberto Calabrese, nipote dell'ex sindaco scomparso un anno fa. A Carlantino è stato invece riconfermato il sindaco Graziano Coscia, battuti Vito Guerrera e Roberto Vinci. Vincenzo Zibisco è stato riconfermato sindaco a Volturara Appula, il comune nel Foggiano, che ha dato i Natali all'ex premier Giuseppe Conte. Per il sindaco uscente è stato un plebiscito con il 75% dei consensi. Anche Volturino ha un nuovo sindaco e Giovanna Santacroce. Collegata alla lista Cambiamo Volturino per Santacroce, 436 le preferenze, pari al 41,25% dei consensi sconfitti Donato Dottoli, Maria Velardi e Angelo Marino. A Biccari è stato invece eletto Antonio Beatrice, che ha superato Costantino Soccio. A Deliceto confermato bizzarro il sindaco uscente, ha battuto l'ex vice sindaco e assessore al comune di Foggia, Francesco De Miglio. A Castelnuovo della Daunia non c'erano dubbi sull'elezione di Guerino De Luca, unico candidato appoggio imperiale. Invece a spuntarla è Alessandro Ligeri, che ha sconfitto De Carolis e l'uscente d'Aloiso ad Apricena. Antonio Potenza è stato riconfermato sindaco, battuto il candidato di centrosinistra Zuccarino. Per Potenza si tratta del terzo mandato nella città dei Marmi.